Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. L'ultima registrazione di Uomini e Donne si preannuncia carica di tensione, con episodi che animeranno sia il trono over che il trono classico. Al centro delle dinamiche del parter over troviamo Gemma e Fabio, nonostante la fine della loro conoscenza, Gemma ha vissuto un momento di forte emotività. Pur senza alcun segnale di riconciliazione, Tina, immancabile nella sua ironia pungente, ha colto l'occasione per attaccare la dama e persino ballare con Fabio, alimentando ulteriormente il dibattito in studio. Un altro momento di grande tensione ha coinvolto Maurizio e Gloria, scatenando il caos. Dopo alcune uscite, Gloria ha accusato il cavaliere di essere privo di contenuti, ma Maurizio ha replicato in studio con una rivelazione shock, affermando che Gloria si sarebbe seduta sulle sue gambe e gli avrebbe messo una mano nelle mutande. Gloria ha smentito categoricamente questa versione, dichiarando che Maurizio è un bugiardo, scatenando un vero caos tra i presenti. Gianni Sperti ha commentato l'accaduto evidenziando la profonda caduta di stile avuta dal cavaliere.